Ciao a tutti, finita Verona-Juventus, la Juventus ha vinto 1-0 con gol di Keane e non era scontata la vittoria, assolutamente no, anche perché la Juventus di quest'anno ci ha abituato a vedere delle cose inenarrabili e quindi si era un po' prevenuti tutti quanti. Quindi molti Juventini che ho sentito erano molto spaventati di questa partita che sulla carta era molto facile, molto semplice, però sappiamo come succede, no? Una distrazione, poca convinzione, rilassamento dei giocatori e poi vai a pareggiare o addio tuttura anche a perdere. Non è successo ed è una buona cosa anche perché arriviamo alla quinta vittoria consecutiva ma soprattutto con questa vittoria si fa una cosa incredibile, cioè si passa davanti a Roma, Atlanta, Inter e Lazio in una sola partita e questo proietta la Juventus al terzo posto. Ok, la Lazio deve giocare ancora, gioca stasera contro il Monza quindi è probabile che riesca a fare qualche punticino, forse probabilmente ci supererà, però siamo ancora, nonostante l'eventuale vittoria della Lazio, siamo ancora in zona Champions League che non era assolutamente scontato fino a qualche settimana fa. Poi è vero che affrontavi il Verona che reduce da nove sconfitte consecutive ma la partita non è stata così facile come sembra, assolutamente perché il primo tempo ce la siamo giocati alla pari e c'è da dirlo. Il Verona ha fatto una buona partita, una squadra fisica che corre, certamente rispetto a quella dell'anno scorso dove invece ci hanno fatto vedere i sorci verdi, quest'anno ha perso dei giocatori che sono fondamentali, che erano fondamentali per il gioco del Verona e questo si vede un Verona sicuramente più spento, almeno meno letale in attacco, perché di occasioni ne ha avute, perché la Juventus ne ha lasciate di occasioni da segnare, perché la Juventus classica di quest'anno gioca magari un primo tempo, un secondo tempo buono, poi dopo si addormenta perché sono andati in vantaggio. Questo è un po' successo anche in questo giro, nel senso che il primo tempo, come abbiamo detto, si è giocato la pari. Il secondo tempo la Juventus è partita con un altro piglio, giocava molto meglio rispetto a quello del primo tempo e ha per un certo periodo predominato sul Verona. Questa è stata una cosa buona, anche positiva, perché ti illudi che la partita diventi una cosa più semplice. Invece cosa succede? Che arriva il gol, che questa è una cosa molto interessante e molto buona, perché comunque ti ha permesso poi di vincere, ma soprattutto dopo il gol succede la classica cosa della Juventus di quest'anno. Calano i ritmi, calano le tensioni, cala la pressione e cedi il campo. Cedi metri, metri, metri e il Verona ti arriva a giocare davanti all'area. E quando arriva a giocare davanti all'area c'è sempre da cagarsi ad otto, so. Perché Chiellini non c'è più, non ci sono più neanche De Ligt, quindi Bremer rimane comunque per carità un ottimo giocatore, ma Bremer e Bonucci non sono certamente Chiellini e De Ligt. Sono un'altra roba, cioè per carità Bremer sta facendo delle partite sempre migliori e sta migliorando e questo sarà sicuramente un centrale di ottima potenzialità nel futuro. Però è ben lontano dall'essere il centrale perfetto assieme a Bonucci. Quindi qualche errore lo fanno anche loro, anche se stavolta possiamo dire che Bremer ha fatto la partita perfetta, anche Bonucci non ha sbagliato tanto, anche se a un certo punto quella gamba alta ci ha fatto cagare un po' addosso. Diciamo la verità perché a prima vista quella gamba alta sul piede di Verdi sembrava rigore, poi guardando il check, guardando la situazione a rallentatore, si è visto molto chiaramente che Bonucci va per primo sul pallone, poi arriva Verdi che calcia e colpisce il piede, anzi i tacchetti, dire la verità di Bonucci, quindi va a terra sicuramente per il dolore perché un calcio sui tacchetti fa sempre male. Però insomma ci siamo ancora cagati addosso perché a un certo punto Verdi va via in azione verso il 95esimo, viene fermato da Alexandro che come al solito entra in campo e fa un guaio, perché comunque Alexandro, ripeto e l'ho già detto tante volte, è un ex giocatore, non è più un giocatore di Serie A e non è neanche più un giocatore di Juventus. Per fortuna finisce il contratto nel 2023, ce lo caviamo dalle balle e questa è una buona cosa. Quindi fa una cosa, cioè sbaglia i tempi però recupera e atterra Verdi, per fortuna lo atterra fuori dall'area, prende il cartellino rosso che poi questo non è neanche una grossa cosa perché comunque Alexandro, così come ha messo, è meglio che stia fuori piuttosto che stia in campo, almeno Allegri non ha la tentazione di metterlo e Alexandro lo rivediamo a gennaio. Quindi niente, punizione che il Verona sfrutta decisamente male perché fa un tiraccio, adesso non mi ricordo se è stato Lasagno o Verdi che tirano, ma fanno un tiraccio veramente inguardabile. Finisce la partita, tre punti che sono il momento culminante della partita, sono le soddisfazioni, ogni tanto arrivano anche in questo modo qua. Quindi è bene così, una vittoria sofferta, pure troppo, dire la verità, perché comunque stavamo affrontando il Verona che a onor della cronaca è ad oggi ultimo, ultimo, ultimo ha con cinque punti, sì, cinque punti, sto guardando adesso perché mi sembrava ne avesse sei, no, ne ha cinque, il Verona ha, sì perché probabilmente guardavo gli aggiornamenti prima, quindi il Verona abbiamo sconfitto, il Verona che ha cinque punti, cioè certamente non è che la prestazione della vita, soprattutto perché il Verona ne ha perse nove consecutive, pubblico comunque molto caloroso per una squadra che sta veramente facendo male, ma ce lo siamo già detti, ha perso tantissimi giocatori di ottimo livello, li ha venduti e quindi succede che il contracolpo sia letale, in effetti il rischio che il Verona vada in Serie B è molto elevato. Detto questo, pensiamo a noi che il Verona ci penseranno i tifosi veronesi, e cosa dire, beh, intanto, per fortuna, domenica si conclude il campionato, almeno la prima parte del campionato, poi ci sarà la sosta del Mondiale, e quando si riparterà a gennaio sarà un altro campionato, cioè si riparterà da zero, cioè i punti saranno quelli, però le squadre che rientreranno in campo potrebbero essere completamente diverse, perché il Mondiale sicuramente influenzerà le prestazioni delle squadre e dei giocatori singoli, e di conseguenza non è detto che le squadre che stanno facendo un campionato della Madonna, tipo il Napoli e il Milan, o la Lazio, poi si ripresentino in campo con la stessa forza, la stessa capacità di giocare come stanno facendo adesso, e la Juventus per assurdo potrebbe trasformarsi e diventare un'altra squadra. Poi la Juventus, per fortuna, si spera, almeno perché poi dopo, non si può mai dire quando sarà gennaio, in linea teoria, perché dovrebbe tornare Pogba, dovrebbe tornare Chiese in modo definitivo, perché comunque sta recuperando pian piano, dovremmo un po' avere tutti i giocatori, e quindi insomma la storia dovrebbe cambiare. Certamente dico questa, nonostante le cinque vittorie, la Juventus dimostra ancora di non essere una squadra completa, di non essere una squadra dominante, è una squadra che ha degli ottimi giocatori, o almeno alcuni sono ottimi, altri un po' meno, e questo gli permette di fare punti su punti, di portare a casa anche otto vittorie e quattro pareggi, cosa che non è così semplice come sembra. Però, insomma, questa Juventus, in un'eventualità di rientro a gennaio, potrebbe veramente svoltare e fare un altro campionato assurdo, cioè un altro non assurdo come abbiamo fatto fino ad ora, che non si può mica vedere, ma un campionato di ottimo livello. Certamente, come detto, Allegri dimostra ancora di non averci capito una mazza, perché la Juventus vince, sì, ok, però fa veramente troppa fatica, e fa fatica con tutte le squadre, che sia l'Inter, che sia l'Atlanta, che sia il Verona, che sia il Monza, la fatica questa squadra la fa con tutte, e questo non va assolutamente bene, perché se tu vuoi arrivare ai livelli che gli Juventini si aspettano, e la dirigenza si aspetta, sicuramente non è il gioco che può portare a questa situazione. Poi, diciamo la verità, Allegri è l'allenatore più pagato d'Italia, e con la Rosa più pagata d'Italia, e quindi un terzo posto, che poi stasera probabilmente diventerà quarto, con due sconfitte, no, quante sono le sconfitte? Con due sconfitte e quattro pareggi, insomma, non è certamente quello che si aspetta, ma soprattutto quello che è la figuraccia che abbiamo fatto in Champions, non è certamente quello che si aspettano i tifosi. Detto questo, sono contento della vittoria, che era fondamentale, e va bene così, va bene così perché dopo domenica prossima ci si ferma per un mese e mezzo, quasi due, quindi le cose poi dopo si potranno risistemare, soprattutto con i nuovi giocatori, cioè nuovi, un po' qua non l'abbiamo mai visto, ma mica tanto nuovo, quindi rientreranno i giocatori infortunati, e in linea teorica le cose si dovrebbero sistemare, poi la preparazione potrebbe cambiare anche un po' il tutto, quindi insomma, vediamo. Importantissimo quindi la partita contro l'Alazzo, che nel caso dovessimo vincere, confermeremmo il terzo posto, che, ripeto, rispetto a quattro settimane fa, era una cosa incredibile per la Juventus. Detto questo, sono contento, perché devo essere contento, perché è importante vincere questa partita, anche se l'avversario non è assolutamente la squadra più forte del mondo, però va bene così. Ottima partita, per il risultato, non certamente per il gioco, però accontentiamoci, quest'anno bisogna accontentarsi di quello che arriva. Detto questo, vi saluto e buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.